Ciao a tutti, ciao Mario. Ciao Elisa. Al sud sta nevicando e qui al nord fa freddissimo. Cosa ci dici di questo freddo? Beh, in effetti fa un freddo cane su tutta l'Italia. Bene, il freddo si guiderà fino a mercoledì 11 perché insisteranno eventi di bora sulle regioni centro-meriglionari, mentre al nord la serenità del cielo fa la sicca ancora se siano forte gelate di notte appunto fino a mercoledì, anzi probabilmente al nord e le gelate proseguiranno anche nei giorni successivi. E per i prossimi giorni il freddo finirà? Beh, diciamo no perché ce ne entra un dato di freddo tra il 12 e il 13 ma senza eventi di rievo, senza nevicate. Riguarderà quasi tutta l'Italia, soprattutto le regioni adriatiche, poi tra il 14 e il 15 invece un rialzo delle temperature e con bel tempo perché arriva un'alta pressione. Dopo l'altra pressione basta, freddo, è finita? No, beh, l'inverno non è finito ma credo nei prossimi 15 giorni non vedremo altre nevicate di rilievo. Bene, grazie mille. Ciao Elisa. Ciao.